Spesso mi chiedete come iniziare a fare il videomaker, beh non c'è sicuramente una risposta definitiva ma dopo dieci anni di questo lavoro posso darvi qualche consiglio, quindi se questo è il vostro intento in questo 2023 mettetevi comodi e cominciamo Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui sul canale Iniziamo questo 2023 con una bella chiacchierata fra me e voi per cercare di capire quali sono le cose da fare o quelli che sono effettivamente i punti fondamentali con i quali secondo me si può iniziare da quest'anno a fare il videomaker o comunque il fotografo, a lavorare nel mondo delle immagini, ecco Ovviamente queste non sono le regole fisse, se non le fate non potete farlo è il mio modo, quello che mi sarei voluto sentir dire quando ho cominciato quindi è una mia chiacchierata, Simone cioè che parla a voi, non è la legge, ecco Come sempre però invece è legge, lasciare un like e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto mi raccomando è importantissimo e supporta tutto quello che facciamo qui in studio quindi direi di cominciare e prendetevi appunti, si sa mai Voglio cominciare con un punto fondamentale, lo studio molti di voi mi scrivono spesso Simone devo fare un'università, quale corso mi consigli, come faccio a studiare il mondo del video è complesso e parto subito col dirvi che non c'è una risposta giusta o una sbagliata io non ho fatto nessuna università, non ho fatto nessun corso perché per il mio modo di essere non riuscivo a star fermo su un banco per più di due ore e allo stesso tempo non ho trovato nulla che fosse effettivamente uno stimolo per il mio modo di approcciarmi a questo mondo ma questo non vuol dire che sia quello giusto ci sono tanti ragazzi che lavorano qui in studio banalmente che hanno fatto lo IED, hanno fatto università dove si sono formati e hanno capito quale fosse la loro strada quindi in realtà purtroppo qui mi ritrovo a dire forse una banalità ma dovete capirlo voi dovete capirlo in base al percorso che avete già fatto magari alle superiori o quello che state facendo e qual è la vostra attitudine siete persone a cui piace sperimentare, stare in giro, tenere la camera in mano oppure siete incuriositi dallo studiare l'aspetto di teoria e metterlo magari in pratica con professionisti come possono essere i vostri professori e allo stesso tempo avete bisogno magari di essere stimolati da compagni di classe o persone come voi che stanno provando a muoversi in questo mondo questa qui è una delle cose più fondamentali capire innanzitutto voi stessi e credo che faccia parte della crescita personale di ognuno di voi al di là che vogliate fare i videomaker o meno quindi a questa domanda rispondo sempre con un trovate voi la vostra strada per quanto mi riguarda però ci sono cose fondamentali che al di là che voi avete scelto la scuola o meno dovete fare e questo concetto è riassumibile con dovete essere curiosi curiosi di studiare su un video di youtube curiosi di aprire un libro e trovare le informazioni che vi possono servire curiosi di cercare magari chiedendo ad altre persone o confrontandovi con chiacchierate piuttosto che appunto immagini film documentari ad assorbire il più possibile quelle che possono essere informazioni utili o meno utili poi ovviamente tantissime cose non le ricorderete nemmeno più tante altre invece formeranno la vostra base la struttura solida che poi vi renderanno un giorno videomaker professionisti il mio consiglio quindi è ovviamente seguite canali youtube seguite professionisti che tutti i giorni provano un po' come facciamo qui a raccontarvi questo lavoro a raccontarvi il loro percorso come sono diventati videomaker e come lo fanno tutti i giorni quindi esplorate siate curiosi questo è il mio più grande consiglio al di là del percorso che poi scegliate o meno di fare sempre per quanto riguarda l'argomento studio voglio dire la mia sul tema studio dell'attrezzatura per me è fondamentale non è solo fondamentale essere dei nerd appassionati di quello che è tutto il mondo dell'attrezzatura sapere i nomi degli obiettivi a memoria l'ultima camera uscita quanti fps ha la 7.4 questo passa in secondo piano è importante studiare l'attrezzatura proprio come mezzo con il quale possiamo raggiungere determinati risultati e parlo proprio dell'aspetto creativo perché quello slider è più utile dell'altro per ottenere quel risultato perché il motion control e il robot sono così essenziali per determinati tipi di lavoro come mai quella luce è migliore dell'altra eccetera 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 parlo di studio dell'attrezzatura perché per me è fondamentale nel corso del tempo crearsi un bacino di strumenti che non abbiamo neanche non è detto che dovete per forza averli in studio o a casa vostra ma è importante sapere che esistono e che possono risolvere un determinato problema se ritorno indietro da dieci anni fa probabilmente mai avrei pensato di avere un robot in studio per fare le riprese ma nel corso di questi dieci anni ho costruito un database di strumenti e cose essenziali che mi permettevano di avvicinarmi a quel risultato e proprio tutte queste informazioni hanno formato poi quella parte creativa e tecnica che mi ha permesso nel momento in cui io ho avuto qui in studio un robot di creare quello che volevo dal primo giorno proprio perché avevo creato questa sorta di knowledge basato su tutte le informazioni che avevo preso in questi dieci anni quindi quello che vi consiglio è prendete dimestichezza con tutti gli oggetti che già avete e quelli che ancora non avete imparandoli a studiare appunto da chi ce li ha guardando video e capendo come poter replicare quel determinato effetto anche con le poche cose che avete in casa secondo me sarà un valore aggiunto fondamentale che vi farà far sicuramente strade in questo settore e fidatevi che anche il giorno che avrete quello strumento preciso aver fatto tutto questo percorso vi permetterà di risolvere problemi immediati su un set che sarà la cosa fondamentale nel vostro lavoro e come professionisti parliamo invece di quella che è l'attrezzatura base da avere so che quando si inizia si è entusiasti di tutto e si vorrebbe avere tutto quanto quello che abbiamo visto dal nostro youtuber preferito dal filmmaker che seguiamo eccetera eccetera ovviamente non è possibile e anche se aveste la possibilità economica di farlo non riempitevi di roba è inutile ora non mi starò qui a dilungare su qual è la camera migliore per iniziare eccetera sicuramente lo potremmo fare in un altro video ma secondo me ci sono tre cose fondamentali da avere quando si inizia questo percorso un buon cavalletto con una testa fluida nel caso in cui siate videomaker perché vi insegna a inquadrare a fare i movimenti di camera e soprattutto ricordatevi sempre che una ripresa stabile è sicuramente meglio di una ripresa mossa a mano libera parlando di cavalletti vi lascio un video dedicato in cui vi ho parlato di tutto quanto a 360 gradi trovate ogni tipo di informazione seconda cosa una buona luce evitate come ho fatto io di comprare pannelli led tremendi luci che non hanno alcun senso c'è solamente una luce da comprare quando si inizia il 60L di Godox piuttosto che il 100D di Amaran insomma una luce base con l'innesto Bowens e che abbia una discreta potenza vi insegnerà tanto vi insegnerà come funziona luce e ombre ma soprattutto un giorno li potete montare un modificatore di un certo tipo e quella luce si trasformerà completamente quindi state pure sereni costa poco con meno di 100€ avete tutto e state tranquilli terza roba è il primo obiettivo ovviamente magari molti di voi cominceranno col proprio iPhone o con la camera kit che trovate magari già a casa eccetera compratevi come primo obiettivo una lente fissa anche che costi poco ma che vi permetta e vi comincia a insegnare come stare all'interno dello spazio il fatto che se voi vi muovete cambia l'inquadratura e non è solo lo zoom dell'obiettivo e soprattutto dato che le lenti fisse tendenzialmente costano poco e sono luminose cominciate a capire un po' come si crea uno sfondo sfocato a livello fisico ecco queste secondo me sono le tre cose essenziali poi magari in un altro video parleremo di quali in specifico potete acquistare tolto l'aspetto puramente pratico e magari di oggetti da avere parliamo di quello che è fare effettivamente questo lavoro secondo me la cosa più importante che dovrete fare nel vostro primo periodo è fare sembra banale dirlo forse l'ho già detto mille volte ma l'unico modo per imparare effettivamente a fare questo lavoro è fare e la cosa più importante secondo me è farlo senza condizionamenti sia esterni che condizionamenti vostri non dovete obbligarvi a raggiungere subito un determinato risultato non dovete guardare appunto il vostro youtuber preferito e dire voglio fare come lui e finché non farò come lui otterrò i suoi risultati non potrò mai fare questo lavoro tutti quanti siamo partiti dal nulla abbiamo creato tantissime cose prima di ottenere determinati risultati lo state vedendo ora di sua impressione questi erano i miei primi video ragazzi erano tremendi ma intanto sono lì e fanno parte del mio percorso e quando ora li riguardo vedo effettivamente i miei miglioramenti e forse è questa la parte più fondamentale fare cose senza essere condizionati da quello che vi dice l'amico il fatto che siete degli sfigati se fate video e non uscite al sabato sera tutte queste piccole cose quando poi le riguarderete indietro dieci anni dopo come faccio io adesso vi sembreranno sciocchezze e soprattutto semplicemente cose che hanno fatto parte della vostra crescita per quanto mi riguarda ci sono due cose che vi voglio consigliare la prima è fate e quando vi sentite sicuri che quella cosa vi piaccia pubblicatela, rendetela online dategli un contenitore nel quale poi possiate rivederla fra un bel po' di tempo perché solo così potete vedere quanto siete migliorati io ora se riguarda i miei video appunto di dieci anni fa mi metto le mani nei capelli ma è giusto così è giusto che vediate fisicamente quanto siete cambiati la seconda cosa è circondatevi di persone che vi stimolino a fare al di là del fatto che siano videomaker, fotografi eccetera ma persone che effettivamente fanno e che credono nel loro percorso sarà super importante vi permetterà anche nei momenti più difficili di essere trascinati da questa corrente fondamentale ok ora due punti fondamentali un po' più filosofici forse astratti passatemi il termine ma per quanto mi riguarda dobbiamo rifletterci un po' insieme e secondo me è importante aggiungerli a questa lista mettetevi in testa fin da subito che il nostro lavoro non è quello di creare qualcosa mai visto prima vi spiego la cosa che più mi piace di questo lavoro quella che mi fa alzare tutte le mattine me lo fa fare è cercare il più possibile di raccontare la mia visione del mondo delle cose ed è secondo me questo il motivo che ci deve spingere tutti i giorni a migliorarci fare, lavorare eccetera non abbiamo la necessità di inventarci qualcosa di nuovo nessuno ci chiede di inventare un nuovo linguaggio del mondo del video ma tutti quanti saranno sempre più interessati alla vostra visione del mondo della quotidianità delle cose normali, semplici, già viste che però vengono filtrate dal vostro occhio dalle vostre mani dal vostro modo di montare eccetera e deve essere questo secondo me il vostro motore quello che vi spinge a fare sempre di più cercare il più possibile di raccontare la vostra visione delle cose che possa essere un documentario uno spot un reportage qualsiasi cosa che vi facciate la gente sarà sempre interessata di più alla vostra visione delle cose alla vostra mano al vostro stile quelle sono effettivamente le cose importanti su cui dovete lavorare sarà la parte fondamentale e appunto questi stimoli saranno quelli che vi spingeranno a fare sempre di più ultimo punto e questo è super personale lo ammetto quando vi diranno rilassati non essere troppo duro con te stesso vedrai che ce la farai non ci credete dovete essere duri con voi stessi dovete impegnarvi ogni giorno per ottenere dei risultati non vi adagiate sugli allori è un percorso lungo che richiede tempo e dovete cominciare a sviluppare tutte delle soft skill che vi accompagneranno in questo percorso la prima è il senso critico verso voi stessi e verso gli altri ovviamente non dovete andare da qualcuno a dirgli il tuo lavoro fa schifo ma dovete essere in grado di capire quello che vi piace e quello che non vi piace cosa effettivamente potete migliorare e guardando il vostro lavoro cominciare a capire quali sono le parti che potreste fare meglio questo non deve essere come vi dicevo prima un paletto un freno pubblicato ogni tanto quel lavoro l'avete fatto l'avete chiuso ed è importante che esca ma dalla volta dopo migliorate tarate cercate di capire quali sono i punti che possono essere gestiti meglio super importante la seconda cosa allenate il vostro gusto estetico è fondamentale capire cosa vi piace cos'è per voi bello oggettivamente bello per voi e che cosa invece non vi piace minimamente anche se piace agli altri se qualcuno dice che è bello chi se ne frega dovete creare il vostro gusto estetico ed è importantissimo ragazzi col gusto estetico si fa il 90% delle cose il resto è tutta semplicemente manualità e tecnica e per farlo è importantissimo guardare qualsiasi cosa non per forza 100.000 film o 100.000 documentari qualsiasi cosa vi possa piacere da un videoclip musicale a una mostra in un museo a un libro di immagini illustrate createvi un bacino di cose belle fondamentale io ad esempio sono affascinato dal design di interni chi se ne frega nel mio mondo ma mi aiuta a capire cosa esteticamente mi incuriosisce l'ultima cosa fondamentale ricordatevi che state uno crescendo e due che cambierete spesso idea e che il resto del mondo cambierà idea un vostro cliente un giorno amerà il vostro lavoro e tre mesi dopo dirà che farà schifo a voi piaceranno delle cose e tre anni dopo le odierete completamente e così su tutto quanto state crescendo perché magari molti di voi sono ancora effettivamente piccoli e dovete sviluppare le vostre idee state convinti di quello che pensate ma allo stesso tempo non vi stupite se fra un po' le cose cambieranno completamente forse proprio la bellezza dell'essere vivi è questo rimescolamento delle carte costante ragazzi con questo abbiamo finito ora non so se effettivamente ho risposto alla vostra domanda ma se devo ripensare a quello che ho detto avrei voluto che qualcuno me lo dicesse quando ho iniziato quindi spero che almeno qualche punto sia uno stimolo per voi per costruire il vostro percorso in questo nuovo anno ovviamente in questo 2023 vedremo un sacco di altre cose quale macchine, quali obiettivi scegliere vi accompagnerò soprattutto sull'aspetto tecnico sapete come sono fatto su questo canale ma spero di leggervi soprattutto nei commenti e se c'è qualcuno fra di voi che è pro che fa questo lavoro da tanto tempo consigliate a chi sta iniziando come muovere i primi passi fate sapere le vostre esperienze e raccontatevi, secondo me è una delle cose più belle che possiamo fare condividere questo settore e condividere come ci si entra mi raccomando ragazzi se il video vi è piaciuto come sempre lasciate un like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto vi ricordo di seguirmi su Instagram e Telegram per non perdervi nessuna novità e noi ci vediamo come sempre a un prossimo video ciao